Grande festa! E' tornata Tokyo Treat! Banzai! Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale e giapponese Finiscila con questo brava! Sei bravissima! Allora, oggi un nuovo video in collaborazione con Tokyo Treat E' piaciuta la vecchia recensione in cui abbiamo stroncato tutti i loro prodotti Infatti, secondo me gli è piaciuta perché non hanno capito niente Giapponesi masochisti e allora ci hanno rimandato un'altra scatola Ovviamente la Tokyo Treat non ci paga per fare questa recensione Ovviamente! Peccato, peccato! Quindi invitiamo Tokyo Treat a mandare un bonifico, mi raccomando Libano lo trovate qui sotto nel box info... info! Come no! Bravissima! Noi ci immoliamo gratis perché la nostra passione per il Giappone è enorme Beh, anche perché siamo un po' cretini Soprattutto per la seconda! Allora, vediamo! Questa è una scatola che contiene 15 pezzi 15 pezzi di cui 5 formato piccolo, 5 formato regular e 5 formato premium Naturalmente voi sul sito di cui trovate tutto qua sotto nel box informazioni Nell'info infobox potrete trovare le scatole come small, regular o... regular? Regular! Regular! Everyday! Everyday! Nice! E il premium! Quindi scegliete voi quello che fa per il vostro palato Va bene! Cominciamo subito perché questa box è veramente veramente carina Io comincerei da un Dihihai Che cos'è un Dihihai? Un Dihihai è un... No, invece è una cosa carinissima È un dolcetto da fare insieme Io stamattina appena sveglia ho avuto questo pensiero Vi mettiamo da qualche parte tipo sulle cose inutili Tipo qua E la... Scherzo amore La slide del video in cui ho preparato questi funghetti al cioccolato Cosa c'è in questa scatolina? C'è un preparato che è dato da tre tubetti Vi ho lasciato le confezioni vuote Sono tre tubetti con tre cioccolati Il cioccolato alla fragola che faceva un profumo spettacolare Il cioccolato classico e il cioccolato bianco Questi tubetti vanno messi a bagnomaria per qualche secondo Quindi spremuti in una ciotolina che state vedendo in questo momento A creare dei funghetti, i cappuccetti dei funghetti A cui poi si infilza il... come si chiama? Biscottino? No, il gambo, come si chiama? Il coso, il gambo Il gambo del fungo con questo biscottino Assaggiamo il biscottino? Assaggiamo Anche lui qua sotto c'è il piccolo... Di casa Com'è il biscottino? Alla lontana sembra un biscotto... Buono, blasmo Alla lontana Molto alla lontana La fine di tutto ciò è questo Tanti funghetti in forma Vediamo Ora vediamo se sformano Sformano Wow Wow Guardate Mi sento tanto una piccola boscagiora Fallire Fallire bene Aspetta Enzo Li devo sformare tutti Guarda che cosa ha fatto qua questa pazza Funghetto con fragole e cioccolato Tieni, mangia funghetto Mangia funghetto Ah, io non lo voglio alla fragole Eh, quello ti è toccato Funghetto trigusto Guardate come l'ho fatto Una palla in un modo Una palla in un altro modo Assaggiamo Che sapore fa? Di cioccolato, mangia Buono 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 Aspetta, questo va se La cacolata e la vaniglia Guardate questo Triple chocolate Mi sono passato un po' il tempo Eh, ragazzi, guardate Ma vengono cose troppo carine Se ci perdete l'unione Ah, dammelo uno Buoni, veramente buoni Ve li consigliamo questi Cianchetti allucinagini Guardate che carino questo Tieni, amore Ne voglio assaggiare uno Fragole e panna Uh, che carino Buoni E poi, scusate Ci sono vari formati Questi sono i chiodini Tieni E' il tuo E' il tuo Quello alla fragola Sai di un gelato Sai di Lecca lecca Ecco, di Chupa Chups Buonissimo E poi vi rimane la formina E quindi potete fare Considerato quello che ci hanno mandato in passato Io do anche un 8 Brava E quindi Andiamo avanti Scusate Do un 8 Perché è divertente anche prepararli Quindi mi è piaciuto Cosa sono queste? Non lo so Andiamo a vedere subito Mi sembrano farina di mais Sono i Magi's Curry Colts Patatina Nice Queste è popolari patatine puffed Apriamo Al sapore di spezie giapponesi E di curry Vediamo come Aspetta Facciamoli vedere Dai Spendiamone uno Solo tu puoi Raccontare Sembrano le manine Sembrano le manine Ah, vero? Sembrano le manine Di uomo di Lego Sembrano le manine Dell'omino di Lego E' vero Assaggiamo Buono Buono Davvero un'altra Questa box Mi sta piacendo Speriamo che si conclude Ah, la box ci pariga Veramente buono E quindi mi raccomando Aprite la busta Nel senso giusto Che sarebbe così Ma Non ci ho badato molto E quindi Buone, buone Diamo un voto Io do sempre il mio solito 7 E io il mio solito 8 Brava Sono contenta Brava Tokyo Treat Yeah Oh, un altro D Hi Questo qua Vediamo cos'è Carsey's Fun Ramen Shop Fai il tuo delizioso Ramen di caramella A casa Questo è un D Hi Serve solo acqua Per fare un delizioso Ramen Eccetera 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 Seguiamo le istruzioni Allora Cosa c'è dentro Questa simpatica Confezione Basta mangiare patatine Poi ti vengono gli occhi A mandorla Oddio Allora c'è Una simpatica vaschetta Così Con quattro vani E poi ci sono Bustina Con disegnati I ramen Che sono questi spaghetti Bustina Con disegnata La salsa De ramen Sì Bustina Con disegnato Una roba di ramen Non lo so Poi stuzzicadenti E forchettina Monouso E bustina Che non so a cosa serva Ora Uno Fare tante palline Con il panetto Quale panetto? Ah ho dimenticato C'era anche un panetto Allora facciamo Due palline Così C'è quella sagomina Che ti spiega Le dimensioni Non so se si vede Delle palline E ora Devi stenderlo Devi stenderlo Grosso quanto questo Ah ogni pallina Deve diventare Che palline Allora No no Non si dice Questa cosa E allora Poi schiaccio Su un piano da lavoro Questa pallina E la faccio diventare Brava Un dischetto Poi questo Si dovrebbe staccare Aspetta Quindi mettiamo Il raviolo Nel fai ravioli Schiacciamo E facciamo Le due parti Del raviolo Questa cosa Sta diventando Ma molto lunga E lungo Allora Brava E Va inserito dentro Ah quindi sono due cose diverse Va inserito dentro Questa roba Quindi Oh Bello Ma sei sicura? Si sono caramelle Amore Non ti pensi Che pensavi C'è la carne? Quindi si chiude Tappete E si stringe bene Tappete E la prima caramella Che carina Che carina E' pronta A forma di raviolo Voglio Voglio vedere E chi la mangerà Chi la mangerà Io Nonno Nonno Papà L'altro Prima fai vedere A papà Come Te la sto preparando Guarda Io nel frattempo Oramai Sfor Ma com'è Vediamo Mamma Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? No Non ti piace? Non ti è piaciuta? No Adesso ci serve Un po' d'acqua In questa vaschetta Tonda Vaschetta Tonda Mentre questa Mentre questa Va nella vaschetta Ma bravo Mio marito Leggi il giapponese E' vero E' qua C'è scritto E' chiaramente Comprensibile I simboli Certo Si accoppiano Due e due Verro amore? Allora Si Hai capito? Non lo che voglio dire Allora Versiamo Questa marrone Nella ciotolina Tonda Che in pratica E' il sughetto Benissimo Si mescola Con la simpatica Forchettina In dotazione Azzurga Come il mio maglioncino Mi giuro che è casuale Anche se mio marito Non ci crederà E allora Mescola 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 Poi Nella vaschetta Invece Quella la più grande Allora vanno separate Sì Frizzante In questa vaschetta Ci devi mettere sempre l'acqua Un po' d'acqua Fino alla prima tacca Fino alla prima tacca Sì Ragazzi Non si può capire Vai 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 Paolino Ok basta Quindi si versa L'altro sacchettino E si mescola Con la forchettina E si mescola Sì Con la simpatica forchettina Ghiri ghiri Oddio Sardo Dopodiché Si versa il tutto Dopodiché Il contenuto di questa vaschetta Quella gialla Di questa qua Lo devi versare qua dentro Di quale? No prima bisogna fare un foro Con lo stuzzicadenti Che ci siamo chiesti Fino a che Adesso A che cosa servisse Forate L'angolino Della busta Così All'interno Di questa Sac à poche Diciamo Molto improvvisata Ok Quindi sta fermo Premiamo l'altra vaschettina E Spreviamo dentro Il nostro ramen Uuuu Come mi piace Che gusto Aspettate Mi avvicino Un po' di minestrina Per incominciare Spaghettino Vai 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 tu Sardi proprio frizzante Aspettate Sardi viscido Dolce No è buono Una caramella Di meno Zitto Una bella forchettata Di spaghetti Alla madriana Giapponeso Com'è? Allora No Devi essere sincero E' una cosa Che naturalmente Uno non è che esce Va al tabaccaio E' una cosa Che ti compri Una caramella Limone Di quelle Ma voi immaginate I giapponesi Che vanno dal tabaccaio Noi ci compriamo Le mentos Allora si compri Il ramen Di ai E in mezzo alla strada Sono tutti con le provette Che fanno Questa roba E prendo Un Ne abbiamo tre Di questi Cosa sono? Questi sono Una volta Sono quegli stecchi Sono tipo Quelle patatine Dixi Lunghissime Ah si ho capito Si chiamano Umaybu Set da tre Umaybu E sono delicious Stick Molto Grandi Patatine Molto grandi Apriamo le Apriamo le Viola Apriamo le Viola Fissa di che cosa Sapranno No tu apri Questo dai Questo bianco C'è il Doraemon Ho un simile Doraemon Nel packaging Che è troppo carino Uh Il mio Il mio Arancione Il mio Il mio è Giallino Stai rotto Il mio Assaggio Tutto il tetto Buono Il mio è dolciastro Il mio è dolciastro E salato Con un elettro gusto Di pesce È vero Questo è migliore Di quello Ma non me lo devi dire Prima di assaggiarlo No scusa No no Buonissimo Anche quello Ma perché Ok Basta Non mi piace Perché è più burroso Va bene Assaggiamo anche l'altro Per correttezza Guardate questo qua Barbecue Barbecue No No Prima posizione Bianco Per quanto mi riguarda E do un Sette e mezzo No no Seconda posizione Viola A cui do un Sei Terza posizione Barbecue A cui do un cinque No no Anche quattro Il mio voto Rimane sette Però Di due prodotti Ma che c'entra No no Non voto Non voto Queste cose Ma sei stupidone Assaggiamo i Prezel Della Glico Andiamo sul sicuro Ma dovrebbero essere Prezel Prezel Semplicemente Prezel Allora C'è qua Questo qua sotto C'è uno gnomo Sotto di noi Ora te li diamo Un attimo Questi glieli posso dare Sono i prezel Normali Arrivano 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 gnomo Assaggia prima tu Tieni E sono appunto I classici Salatini Non sono i classici Vero? Non hanno quella Texture croccantissima Dei nostri prezel Sono più tipo Ritz Sì O tipo Tuck lunghi Forse Tuck Tuck Sarà Tuck Va bene Questi devi puoi mangiare Vai Buoni Così stai un po' buoni Mi è venuta una certa sete No 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 Non lo fare No Ma che cos'è? Sangria Ola 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 La Sangria Eccola qua Sì No è No è ginger e miele E vabbè c'è scritto sangria sulla confezione Ah ma no no Sangaria è la marca Scusate Assaggiamo Naturalmente io sono gentile Ma che cavaniera Io ho un rossetto amore Poi sporco la lattina Noi senza bicchiere Direttamente lattina Cin cin Sa molto di ginger Non è male Ma non è la bevanda della vita A me non dispiace A me non dispiace Io do un cento A questo fare Cento Cento No no Do un sei Dai No a me questa è bevanda Lo sapete perché non mi piace? Perché non è frizzante Ah E metticci qualcosa di questo qua dentro È tipo un tè molto dolce Non è tè però È una tisana ginger e miele Eh brava una tisana Brava brava Però temperatura ambiente No O fredda o calda O calda Da bere o fredda o calda Meglio fredda Perché è calda Insomma Poi Che cos'è questo qua? Questi sono dei Sato petite pack Dai Sato petite pack Of magic bamboo shoots Vediamo Sono dei cornetti O dei pinetti Credo Sembrano dei pini Degli alberelli Delle pignette Delle pignette Brava Il cioccolato Prego Ma questi forse sono buoni Nove Sì buoni Buoni Dai Il biscotto Sì E poi su un biscotto casereccio Vero? Un po' al burro Buoni Anche il cioccolato è buono Ma questi giapponesi Ci stanno Secondo me Hanno visto il video di prima Dice no Questi pensano Che noi mangiamo Che pezze E invece è vero No No Questa box è buona Allora dai Proviamo questo qua Cosa? Il Doraemon? Doraemon cup chocolates Vediamo cos'è Questi sono tipo Tipo assaggiamoli Tipo caccole Pepite No caccole Pepite Ah Allora Sono patatine di X Non serate Ricoperte glassate di cioccolato Ricoperte di cioccolato C'è una cosa simile I Maltese Allora non le conosco di queste cose Va bene Niente di che Non sono neanche di tanto Sei? Non sei? Cinque Continuiamo con un'altra confezione Con Pikachu Pokémon È Pikachu no? Sì sì ma sono i Pokémon Eh sì È Pikachu Allora Patatine a forma di Pikachu Aspetta Patatine A forma di Pikachu Sono dei pazzi Sono dei folli Ma come gli viene? Assaggiamo Dolci Patatine dolci Molto burrose È buono di quei biscotti Alla scatola tonda Però ha patatine Che stranezze Che stranezze È a forma di Pikachu Naturalmente Non sono brutti Non sono brutti Ma sono Ma non li mangerei mai Per bambini Sì Oggettivamente potrebbe arrivare un 6 Ma per i miei gusti sono un 4 Infatti Dai Proviamo questi I Kapli Cocotte Allora Che carini Però guardate Sono confezionati in maniera deliziosa Anche dentro In modo che non si rompano Insomma Sto pacco arriva Dal Giappone E tutte le cose Sono integre È una scatola di cioccolatini Ma carine carine Fragola tu Vaniglia io No 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 Fragola io Sì sì Basta cos'è la fragola Perché sanno di Di bubble Ah sono cioccolatini Sono metà di cioccolato Hai visto E metà di fragola Tieni la scatola Sì La scatola Cioccolatini La versione pronta Dei funghetti Senza il bastoncino Buoni Cos'è questo Look Cioccolates Cioccolates Dodici grains Look Herbst Le mod No è cioccolata Con dentro Sono due caramelle No Sono quattro gusti Per fila Divisi Quale prendi La K La O Il cerchio col pallino La O Io divido a metà la K O me la K La K La K è all'uva Anche la O No Non è possibile Vediamo questa col pallino Questo è arancione dentro Allora i gusti sono Castagna Uva E zucca Quindi quella mia Era la zucca Ah è rafano anche Ma qua sono cose Tutte in giapponese È tutto in giapponese Non si capisce niente È rafano Rofolelle È un È un cioccolatino Speziato Proviamo qualcosa di salato Forse Sì Questo qua Questo qua Questo qua Questo penso sia una caramella Allora Gamimaru Teschi Grilled egg Mochi cake Mochi cake Una mochi cake All'uovo Cioè Vuol dire che è una caramella Che sa di Uovo? Non è che lo dico io Ah almeno sono divise Guardate Sono delle micro frittatine Delle crepe Vieni caro Apriamo una sola però A me no Dai apriamo le due È una domanda A cui non so rispondere Sa di uovo Di uovo Sa di Cioè sto bevendo questo Solo questo Sa di tuorlo d'uovo Cioè io mi faccio del male Da sole E tu non mi dici Dei tuorlo d'uovo Beh È una È una gomma morbida Sì sì E rimane Ok Mi uovo Mi ha bricciato Ok Aspettate che mi devo riprendere No 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 Sconsigli Meno sei Meno sei Meno sei Meno sei Uovo puro Gli Ahokin rice crackers Crackers di riso Non dovrebbero essere Non qualcosa Non dovrebbero essere male Perché 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 Avevamo cominciato così bene Allora sono Questo cos'è L'insaporitore 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 La salsina Divido la mia cialdina Io sono una fersoncina da bene Questa è la salsina Questa è la salsina La salsina La salsina agrodolce è buona Non male Certo Una cosa no sense Mano Dacci una mano Vabbè Anzo sta piacendo Per me è un 5 Non mi è piaciuto tanto Abbiamo queste Che sono Le assassination classroom Già il nome Che c'è? No no io passo No non può No no passo passo Non può Diteglielo che non può Non puoi No non può Non vale Io no Tu no amore Ok Di che sa Ah è morbida Ma di che sa E' citrosolina pura Bicarbonato Fomito in pastiglia direi Allora No no non mi piace Questa cosa Ma che a me E adesso Queste micro pasticchette Alla ciliegia Che sono I Toyoka Cherry Rice Cake 70 anni Di caramella Racchiuso In questo piccolo Di Hikai Hanno queste cose Antichissime E se le trascinano Da una vita Modernizzate Allora 70 anni E' come mettere Un cannolo siciliano In una pastiglia Ah no E si mangia Con l'altro Dov'era? Qual'è l'altro? Quella che mi sembrava La gomma di E c'è anche questo E' che questa è una gomma Vi ricordate quelle gomme Che c'erano alla fine All'inizio degli anni 80 Le vendevano così Questo qua chi è? Sembra un Power Rangers Eh sembra un Power Rangers Allora Proviamo prima la caramella Ma perché bisogna infilzarla Con lo stuzzicadenti? Che serve questo? A che serve lo stuzzicadenti? Forse a sollevarle? Non ci credo Tieni Assaggiamo Morbida Buona Una caramellina Caramellina Innocua Alla ciliegia Dai questa diamo un 7 Dopo quello che abbiamo assaggiato Dopo quello? No Sono preferiti? E infine la gomma da masticare La gomma da masticare Ma così? Che è proprio uguale A quelle che vendevano Alla fine degli anni 80 Erano rosa E avevano tipo La fotina di Gigrobot Uguali Ma sai Ma a me? Però queste fanno schifo Mentre Quelle vendevano tanto Perché fanno schifo? No non fanno schifo È il primo morso Non mangi 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 Più le mastichi Più viene fuori il sapore Ma me l'ho detto Il sapore non è brutto Andate oltre le prime due masticate Sono finiti? Sì perché è quella Che un po' anche si sfilacciano tra i denti Una goduria incommensurabile Scusate un attimo Allora Che dire di Tokyo Treat? Le scatole arrivano Integre Certo Sono cose carine Allora Se io avessi Cioè Non è che io mi vada a comprare la box Così Però Per un compleanno Per una festa Sì una festa È un regalo alternativo Veramente carino Oppure se volete organizzare un party tra amici Per provare tutte queste cose Un giappo party È una cosa carina E Tokyo Treat è un sito molto serio Devo dire Ti seguono anche nella spedizione Si assicurano che il pacco arrivi Ti chiedono come è arrivato Insomma Ci piace Ci piace collaborare con loro Quindi Nel box informazioni Trovate i riferimenti Per andare a vedere sul sito I prezzi delle varie box Noi adesso Andiamo a farci una tizana Detox Che ha anche due dita in bocca Che non è questa Però Va bene E Ci speriamo di avervi divertito Con questo video un po' Un po' pazzerello Un po' pazzo sado Un po' pazzo sado Va bene E quindi noi salutiamo Tutti gli amici giapponesi Che vivono in Italia Vi ringraziamo Siete un popolo di pazzoni Simpatici ma pazzoni Quindi mi raccomando Il dolce è dolce Salato è salato Bene Allora noi ci rivediamo presto Su le vostre tavole Ciao